Sì, con la borsa. Nella borsa? Oh no, si è rovesciato. Ne vuoi un po'? No, perché non butti via quella roba? Va bene, come vuole, signore. Ok, porto Stacy a casa e la metto sotto le coperte. Io credo che sia meglio portare Walden a casa e metterlo sotto Stacy. È poco probabile. Boh. Forse un'altra volta. Yeah! Nel frattempo schiaccerò un pisolino. Ok. Sono così affamata. Presto saremo a casa. Oh, ma quello non è commestibile. Sicura di non voler essere? Possiamo fare sesso? Sei stata molto chiara. Ma no, grazie. Per fare sesso con me devi essere in grado di stare in piedi su una gamba e toccarti il naso. No. Oh, molto. No, forse è meglio che apra io. Vediamo un po'. Allora. Salve. Ciao, nonna. Ti presento il mio amico. Si chiama... Per essere precisi, Walden. No, 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 no.